16 anni, tanti auguri, tanti auguri. Allora, basta perché altrimenti non ci sarà sufficiente il tempo. Serata intensissima questa nostra, comincia ufficialmente. Ciao ciao, benvenuti, ci vogliamo bene. Alessio si vuole venirti a straiare qua. Vieni, 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 che hai proprio il fisico da sirenetta. Vieni qua, c'è uno scoglio che ti aspetta. C'è anche un'assenza da sirenetta. Serata, dicevo, per noi particolarmente, emozionante e preziosa. Insieme questa sera i componenti della scuola di politica Renata Fonte, i componenti dei GEC che si approvincuano alla campagna, per questa sera, solo per una volta, i GEC della campagna e i GEC della scuola, insieme, per una serata che, per i temi che tocca, apre adeguatamente. Coraggio con queste sedie, grazie per lo sforzo importante, l'accoglienza, l'attenzione alla persona. Basta. Una serata questa, su, coraggio, però adesso basta, ciao ciao, ci vogliamo bene, siamo tutti qui, c'è anche la Carrari.